Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Benvenuti qui al Senato della Repubblica Italiana. Mi fa veramente piacere. Poi vedo molti amici. Saluto il sindaco di Vaux, l'amica Vanessa, che è qui con noi. Mi fa piacere. Questa è una cosa che Giorgia ha dato un collegamento con le persone che sono anche al di fuori e che non si conoscono. Questo è molto piacere. Quindi veramente di cuore benvenuti a questa presentazione del libro I miei occhi hanno visto di Giorgia Miazzo e chiaramente di tutti i relatori che sono a questo tavolo. Cito in ordine come l'abbiamo messi noi da Gianluca Parise, a Enrico Paoletto, a Ezio Toffano e Alessandro Bau. Ho sbagliato qualche cognome? Bau? Bau. Perfetto. Era giusto che ci fosse un errore, se no la direta com'è. Non ci può essere, no? Quindi benvenuti a tutti. Io credo che sia veramente un libro di Giorgia, è un libro che ci fa riflettere. Ci fa riflettere in modo anche molto serio, lo dicevo prima, è una battuta alla tv, in modo molto serio rispetto a quella che è l'emigrazione, che è stata e che è ancora l'emigrazione. Ricordiamoci che oggi migliaia di giovani se ne vanno e sono i nuovi emigrati. Purtroppo oggi sta succedendo che invece ricominciano le famiglie a emigrare. E la nostra storia è una storia che non vorrei che si ripetesse, perché le sofferenze, la fame, i sacrifici e poi anche le grandi vittorie che hanno fatto decine di migliaia di italiani nel mondo, che hanno portato la nostra cultura, la nostra storia, il nostro modo di fare, di fare impresa, di fare anche nelle politiche, chiamiamoli così, sociali. Prima, qualche minuto fa, abbiamo presentato un libro del professor Chiarelli, che lui interviene nel mondo in aiuto, come medico, medico-chirurgo, in aiuto delle persone che sono nel terzo mondo e nei paesi dove c'è bisogno. Si collegano le cose, si collegano in modo importante. Si collegano soprattutto perché è una società dove c'è una corsa continua e si dimenticano i valori, i principi, e soprattutto la nostra storia, si dimentica da dove proveniamo. Credo che questo ci faccia riflettere. L'esperienza di Giorgia, che è un'esperienza importante, vissuta direttamente, di fatti i miei occhi hanno visto. Bellissimi occhi, voglio dire, no? I miei occhi hanno visto. Credo che questo sia un aspetto veramente importante. L'immagine del nostro paese all'estero forse è molto migliore di quella che noi stessi qui in patria rappresentiamo. Vorrei dire, se guardiamo poi quello che succede, lì fuori dalle considerazioni di carattere politico, ma proprio di carattere sociale, quello che succede all'interno del nostro paese, che abbiamo visto anche negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, quindi effettivamente forse è reale questo, che tante volte chi ci è all'estero ci rappresenta meglio di noi stessi che ci rappresentiamo qui. Quindi la valorizzazione della lingua e l'identità culturale delle nostre comunità, che sono piccole o grandi taglie. Io vorrei tante grandi taglie in giro per il mondo. Questo è una delle cose che dovremmo veramente pensarci. Questo libro ci fa ripercorrere una storia, una storia che lei ha visto, che ha sentito, una storia per caso tante volte dove ha incontrato anche delle forme dialettali che noi stessi oggi ci siamo dimenticati, perché rappresentano proprio quelle di qualche decina d'anni fa, cioè con dei termini che anche noi stessi oggi ci siamo dimenticati. E allora la storia è qui o ce la troviamo per caso in qualche parte dispersa, per caso in qualche paesino, in Brasile o in altra parte? Ecco, questa vorrei dire è una riflessione che dobbiamo porci. Ecco, io salutandovi tutti, chiaramente la vostra presenza e ringraziandovi, vorrei solo fare un inciso, ringraziando la mamma di Giorgia che è oggi qui con noi, perché fa veramente piacere di avercela qui. Grazie a te di essere qui e con lei ringrazio tutti i presenti. Passo la parola a chiaro partite Giorgia. No, partiamo con il dottor Parise. Allora, il dottor Parise, prego. Buongiorno a tutti, un ringraziamento al senatore De Poli per l'accoglienza, la disponibilità e a tutti voi che siete qui presenti in questo evento, in questa occasione, di raccontare questo percorso, questo momento unico, di avere questo valore di cosa sono gli occhi, gli occhi che maturano, gli occhi che cambiano, che si trasformano attraverso 45 viaggi, che Giorgia, dottorizzera Miazzo, ci propone nelle Americhe, in Asia e in Africa. Ecco, stiamo viaggiando molto, c'è l'occasione di sviluppare, di entrare in contatto quotidianamente con realtà differenti, ma il racconto di Giorgia, in questo caso, proprio parla delle sue esperienze, il suo contatto nelle comunità, nelle persone, con queste carissime frequentazioni che poi diventano anche cari amici e che nel racconto di Giorgia poi diventa la possibilità di condividere e di vivere insieme questa quotidianità, questo momento forte, che questi viaggi ci raccontano. e volevo ricordare alcune parole del cantautore spagnolo Oscar Riviglia, che trovate anche nella prefazione, e lui parla di due figure, due figure che sono quelle dell'uomo albero e delle persone vento. Ecco, queste sono le due figure che sono diverse e che tutti noi possiamo decidere quale e quale essere, quindi vi riporto le sue parole. Tutti noi, esseri umani, siamo emigranti. In sostanza lo siamo per natura, dal primo momento in cui lasciamo la calda patria del ventre materno. Non siamo altro che migranti. Nostra madre è l'unica vera patria, tutto il resto è straniero. Siamo vagabondi, anime espulse da un paradiso. Alcuni piangono tutta la vita a questa perdita e si aggrappano ai luoghi diversi, un quartiere, una città, una casa, una lingua, una bandiera, e la usano come sostituti della madre. Sono queste le persone albero, che affondano profondamente nelle radici da cui ricevono vita e nutrimento. Per altri la vita è movimento, girovagare, peregrinare, portando l'effimero dell'esistenza in uno zaino sulla schiena, senza dubbio leggero, ma pieno di incontri, di ricordi e di emozioni. Queste sono le persone vento, perché l'aria che colpisce i loro volti dà loro vitalità e fa pagamento. Ecco, per cui io credo che la lettura di questo testo sia proprio nel vedere, approfondire questo concetto di persona albero, persona vento, e la persona vento può essere quella persona che apre gli occhi, e gli occhi qui hanno visto, hanno visto un mondo fatto di tante particolarità, tante e tante diversità, che sono anche la forza del viaggiare. Ho avuto la possibilità di partecipare a uno di questi viaggi, a uno di questi percorsi, un viaggio durato ben dieci anni, quindi un viaggio ben lungo, un viaggio nelle Americhe, o nell'America, come si diceva un tempo, un viaggio in Brasile, un Brasile dove è stato possibile conoscere il problema e il grande tema delle grandi immigrazioni che hanno coinvolto le nostre famiglie, la nostra Italia, ma che è ancora vivo in tantissime famiglie, in tantissimi contesti, in giovani e meno giovani che sentono ancora forte questo legame con la terra. Quindi è un progetto diventato poi, con il nome Cantando in Italian, o anche Viaggio di sull'andata per l'America, un percorso fatto nelle università principali dello Stato del Paranà, di Santa Caterina, Rio Grande do Sul, anche Rio de Janeiro, per poi scendere in quelle che sono le comunità. Un progetto che entra a contatto con le persone ed è proprio questo l'approccio che il libro di Giorgia propone, questo contatto che ci permette di conoscere e di vivere. Un progetto che è entrato in contatto con più di 15.000 studenti in Brasile e anche in Italia, entrando proprio anche nelle scuole e questo era proprio l'obiettivo, lavorando anche con diverse amministrazioni, abbiamo lavorato in più di 300 amministrazioni e questa esperienza proprio vuole essere una testimonianza che il viaggio poi può dare veramente di frutti grandi e questi viaggi che Giorgia ci racconta non sono mai banali, ma sono esperienze di vita e concrete. Vi ringrazio. Allora passiamo la parola a Enrico Paoletto, volevo salutare anche il Vice-Segretario Generale del Senato, il Dottor Alfonso Sandomenico e il Direttore del Polo Sanitario, il Dottor Marini Federico, che ci hanno raggiunto e quindi ci fa piacere e onore che siano qui con noi oggi, grazie. La parola ad Enrico Paoletto. Presidente dell'Associazione Annea. Sì, grazie Senatore. Allora, mi associo anch'io ai ringraziamenti nei confronti del Senatore De Poli per averci dato questa possibilità e per portare anche noi a essere presenti a questo grande evento. Ecco, per noi Giorgia è stato un valore aggiunta. Noi siamo l'Associazione Annea, un'associazione nazionale dei migranti dell'Australia e delle Americhe che praticamente segue quello che è tutte quante le vicissitudini dei nostri migranti e con Giorgia, avendo iniziato questo percorso, ci siamo veramente molto integrati insieme. L'autrice, che è parte integrante della nostra associazione in qualità di consultrice presso la consulta dell'Associazione dell'Emigrazione della Regione Veneto, da tanti anni segue con grande passione le comunità italiane, nei vari continenti e in particolar modo nell'America Latina. Faccio una piccola parentesi. Il mio bisnonno è stato immigrante in Brasile e poi mio papà è stato immigrante in Australia, quindi abbiamo avuto, diciamo, abbastanza legami dal punto di vista dell'immigrazione. Numerose le comunità sparse nel mondo che l'hanno vista attenta ricercatrice, pombotrice e docente. La dottoressa Miazzo dedica parte della sua vita all'estero vivendo per lunghi periodi nelle comunità italiane con l'obiettivo di recuperare le lingue minoritarie, gli usi, i costumi e tradizioni dei nostri migranti italiani partiti durante il primo grande esodo dopo la metà dell'Ottocento e che ora dopo 4 o 5 generazioni ancora rimangono consolidate in alcune comunità. Grazie alla fattiva collaborazione con la dottoressa Miazzo proprio in relazione alle tematiche proposte nel libro I miei occhi hanno visto e un progetto accademico che l'autrice ha ideato e conduce da anni, in molti comuni ed enti pubblici e privati sono state realizzate conferenze, mostre, documentari e spettacoli teatrali per valorizzare il fenomeno dell'immigrazione italiana da un punto di vista storico e culturale. A nome mio e dell'Associazione Nazionale Anea ringrazio Giorgia per questo prezioso contributo e a nome anche di tutte le comunità italiane nel mondo. Grazie Giorgia. Bene, grazie. Adesso diamo la parola a Ezio Toffano, Presidente Anea, sezione di Montebellume. Sì, buongiorno a tutti. Grazie Senatore De Poli per aver messo a disposizione questa magnifica sala e a tutti voi per il tempo l'attenzione che ci state dedicando. Il mio è un compito gradito, quello di presentare l'ultima fatica editoriale di Giorgia Miazzi e i miei occhi hanno visto non può che essere così ed è peraltro un incarico che svolgerò con una personale chiave di lettura quella di chi al contempo è nato all'estero figlio di emigranti poi rimpatriati e vive poi nel mondo della scuola quale preside di scuola primaria, di scuola media e di liceo e queste poi saranno anche che saranno anche fatti che porteranno a conseguenti decisioni. Questo è un volume ricco di etnicità. Giorgia ci trascina dapprima nel tripuglio del colore gli indumenti sgargianti delle donne angolane e peruviane, le mille sfumature e tonalità delle dune dell'isola di Maurizio, la natura autunnale del Quebec. Ci guida poi tra le molte religioni dell'India dove ancora sopravvive l'antico zoroastrismo e nei templi della Tailandia con i suoi 200.000 monaci. Ci ricorda che Assunzion, la capitale del Paraguay, è stata costruita su sette colli e di come i suoi abitanti, di come i paraguaiani, siano fieri di questo tratto in comune con la città eterna. Tratto peraltro condiviso ad esempio con la Pola Istriana che è un'altra città che ci ricorda una presenza italiana con una storia purtroppo tragica alle spalle. Giorgia ci immerge nelle viste mozzafiato che ci regalano la natura cilena e le architetture delle monarchie del Golfo. Ci rammenta l'opposizione irlandese alla colonizzazione anglo-normanna e dal lato opposto dell'Atlantico rammenta la fierezza dei cubani. Trasmette a chi legge il libro le sensazioni che ha provato nell'isola senegalese di Goree dalla quale i trafficanti di schiavi delle potenze coloniali partivano con loro carico di merce umana alla volta del nuovo mondo. Ma il suo diario, come hanno detto anche coloro che mi hanno preceduto, non manca di ricordarci come quasi ovunque il viaggiatore attento potrà trovare i segni del passaggio, della fatica, della presenza e dell'umanità di coloro che nei secoli hanno lasciato l'Italia e soprattutto dei loro discendenti. Giorgia ci parla dell'Argentina, di Buenos Aires, la capitale così si chiama infatti in onore della cagliaritana Madonna di Bonaria e del resto si stima che circa il 50% degli abitanti dell'Argentina siano oriondi italiani. Ci parla della Romania che è linguisticamente affine a noi ma che è stata, fu destinazione dei tagliaboschi belunesi quando ancora erano sudditi dell'impero asburgico e già nel 1895 avevano il primato delle commesse pubbliche in materia di edilizia. Ci guida in Canada dove non solo l'italiano è la terza lingua più parlata e quindi la più diffusa tra le non ufficiali che sono l'inglese e il francese ma è pure nata una nuova quina linguistica. Ricorda l'Honduras dove qualche italiano stressato dai ritmi dello stivale se ne è andato per trovare rifugio. Ci coinvolge in Peru ci sono circa mezzo milione di italiani presenti e a seguito di un'emigrazione cominciata molto presto nel 1550 e poi in Uruguay paese aperto e al tempo stesso sentimentale dove però, attenzione, ancora nel 1942 era obbligatorio lo studio della lingua italiana o nella travagliata nazione del Venezuela dove la presenza italiana è caratterizzata da imprenditori dirigenti, attori, finanzieri ingegneri, campioni sportivi e così via o ancora il Paraguay che è un caso unico ecco di destinazione ed elezione dei Lombardi i cui discendenti sono circa 600.000 e tuttavia è già stato detto in Brasile che Giorgia ci fa vivere un viaggio a 360 gradi e qui l'incontro con le comunità di origine italiana raggiunge veramente l'apoteosi ecco su questo tema sul tema dell'emigrazione come i miei occhi hanno visto Giorgia supera l'idea che a volte è un po' stereotipata degli emigrati quali ambasciatori della lingua e della cultura italiana nel mondo e ci restituisce invece l'immagine di una comunità nella quale i cui appartenenti cercano un senso di appartenenza e hanno anche coscienza di se stessi da dirigente scolastico purtroppo voglio evidenziare che l'epopea dei nostri migranti è trattata marginalmente se non esclusa dai libri di testo e dai piani dell'offerta formativa delle scuole non dovrebbe essere così e così come di rado gemellaggi e scambi culturali vedono coinvolti i nostri oriundi così da vivificare e rendere attuali i contatti concludo quindi come sottolineando che anche in ambito scolastico la fatica di Giorgia e i miei occhi hanno visto può essere un valido strumento di supporto e dunque con l'invito a tutti voi presenti a viaggiare negli angoli di mondo che l'autrice ci presenta con questo volume grazie 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 adesso diamo la parola ad Alessandro Baud dell'associazione Vicentini del Mondo anche io ringrazio il senatore De Polli per la sua disponibilità per questo regalo che ci fa oggi di poter essere qui il lavoro della dottoressa Miazzo non solo questa sua ultima fatica letteraria ma tutta la sua produzione come scrittrice si inserisce come una sensibile risposta di ricercatrice e linguista a una necessità radicata da parte degli emigranti italiani nel mondo di riscoprire e tenere vive le nostre origini Giorgia è da anni impegnata nell'associazionismo veneto vantando collaborazioni prestigiose con la rete regionale ed internazionale di Anea inoltre con i padovani i trevisani i bellunesi i verunesi e i veneti nel mondo è anche significativo il suo contributo con l'associazione Vicentini nel Mondo di cui mi pregio di essere oggi qui rappresentante in quanto la nostra provincia di Vicenza ha avuto tra i maggiori indici di partenza nella storia come emigranti nel mondo a livello nazionale e Giorgia ha svolto un'operazione certosina di divulgazione su questa tematica in tutto il territorio con le amministrazioni con le scuole e gli enti di varia natura è sempre stata accolta positivamente dal nostro territorio Vicentino e ha ricevuto grandi manifestazioni di stima le sale comunali o i teatri pubblici dove opera sono sempre gremiti di persone questo va detto e sono di tutte le età ci sono dagli anziani che magari ricordano un parente che è emigrato e i giovani che sono curiosi di conoscere il valore dell'immigrazione nel passato mediante questi lunghi anni di percorrenze e progetti sull'italianità Giorgia diviene un'autentica ambasciatrice nel mondo con i suoi spostamenti di centinaia di miglia e chilometri è riuscita a raggiungere le comunità venete sparse negli angoli più remoti del continente americano e a placare la sete dei tanti discendenti sulla conoscenza dell'Italia della sua storia società ed economia quando faccio riferimento al pregio del suo operare però non mi limito soltanto all'ambito culturale o linguistico ma mi riferisco anche all'importanza che riveste la sua rappresentanza in senso identitario e di riferimento all'italianità delle comunità venete in particolare quest'ultima pubblicazione i miei occhi hanno visto è un'opera che parla delle persone le persone che lei ama tanto lo sento personalmente come un pregevole supporto per i giovani affinché in questo mondo tanto globalizzato possono guardare con altri occhi le culture del mondo è un volume nel quale si parte per un viaggio che fa conoscere riflettere sognare ed osservare il mondo con altri occhi che sono gli occhi di Giorgia Giorgia che è la nostra piccola grande ambasciatrice del Veneto nel mondo grazie grazie ad Alessandro Bauma adesso facciamo un fuori programma quindi non ti do la parola perfetto guarda mi riposo quindi siccome abbiamo il piacere di avere con noi uno dei nostri sindaci Padovano Veneto qui presente che è il sindaco di Boca Vanessa Trevisan io vorrei far portare proprio il saluto da chi nel territorio percepisce tutti i giorni quelle che sono le problematiche ma anche quelle che sono le situazioni sicuramente un paese di grande emigrazione eccetera quindi nel podio al podio anzi vai Vanessa buongiorno buongiorno a tutti io è un po' esattamente come diceva il senatore un fuori programma in quanto non mi sono preparata nulla quindi quello che dirò è qualcosa che mi viene dal cuore innanzitutto un grande ma davvero grande ringraziamento al senatore Antonio De Poli per aver dato non solo a Giorgia ma anche a noi questa grande opportunità non è da tutti poter essere ospiti all'interno delle sale del senato io conosco Giorgia da un po' di tempo Giorgia è stata come si diceva prima ma spesso all'interno delle amministrazioni ed è stata anche a Bo la cosa che mi piace molto di lei è proprio il suo amore per quello che è il nostro Veneto noi siamo veneti di origine e di anche cultura spesso però non insegniamo il dialetto ai nostri figli e sono pochi che lo conoscono lei lo sta facendo lo sta facendo non solo ai nostri figli ma addirittura all'estero e questa è veramente una cosa che le fa onore e che ringrazio da parte mia in quanto proprio Veneta spesso alle volte quando si va in giro il nostro accento è inutile negarlo lo riconoscono tutti c'è chi dice che sembra una cantilena chi sembra una canzone magari a noi invece non piace molto però questo è questo siamo e siamo orgogliosi di esserlo io per questo ringrazio nuovamente Giorgia dell'invito ad essere qui che ho accettato all'inizio dicevo ma vado non vado vado non vado poi alla fine ho detto sì ci vado uno perché Giorgia se lo merita e due perché è veramente una bella occasione adoro viaggiare e quindi avrò veramente con molto piacere avrò modo di leggere questo libro che viaggerò in un certo senso ma con gli occhi di Giorgia quindi grazie ancora al senatore e grazie a Giorgia e grazie a tutti voi arrivederci grazie grazie a Vanessa e adesso diamo la parola all'autrice del libro c'è una lunga linguista ricercatrice scrittrice giornalista Giorgia Miazzo vai grazie buongiorno a tutti e sono estremamente onorata per questo invito e mi sento di ringraziare ognuno di voi che siete qui con me oggi e in primis il senatore De Poli per questa importante opportunità io sono una viaggiatrice allocentrica viaggio per vedere quello che non si può raccontare e per questo i miei occhi negli anni si sono trasformati e mi hanno permesso di vedere il mondo in modo diverso e ho visto che ogni centrometri il mondo cambia ora ho occhi più completi perché hanno cambiato mille volte la forma del pensiero e della vita ho conquistato un ruolo importante nel panorama degli studi dell'immigrazione italiana concretizzando un enorme bagaglio culturale umano e professionale raccolto nelle ricerche antropologiche e linguistiche che ho fatto un po' in tutto il mondo è da anni che vi parlo di radici ma oggi vi parlerò di ali questo volume mi rappresenta in modo totale perché racconta il mio essere un po' nomade viaggiare è una spiegazione e mi sono sempre posta molte domande mi sento pioniera nell'aprire nuove strade e creare nuove reti le lingue sono sempre stato il mezzo con cui ho viaggiato e la passione e la padronanza per alcuni idiomi mi hanno permesso di entrare nel mondo non di guardarlo dalla finestra perché parlando la lingua di un popolo si conosce la sua identità diventa un'altra dimensione di viaggio so sto a lungo so sto a lungo nei posti dove vado per sentirmi un po' parte di loro vivo con le persone perché danno fisionomia e sentimento ai posti che le ospitano e poi succede qualcosa di particolare ogni volta che arrivo in posti lontani mi sento poi a casa sono attratta dal diverso e ho capito che la diversità va conosciuta e il viaggio cura gli stereotipi siamo tutti viaggiatori con polvere di stelle nelle vene cartine geografiche negli occhi e istruzioni di viaggio nel cuore siamo tutti migranti se non da una terra lo siamo da noi stessi nei posti dove andiamo scopriamo qualcosa di noi che non conoscevamo e troviamo sguardi che ci appartengono il viaggio infatti non è solo spostamento fisico ma soprattutto interiore viaggiare è un atto impegnativo perché ci obbliga a rinunciare a tutto e a fidarci di sconosciuti che spesso usano altri linguaggi hanno altri colori e credono in altri valori a volte ci si sente fuori equilibrio anche un po' disancorati a ritorno siamo altro da noi spesso coltiviamo pregiudizi per il diverso ma il primo diverso che dobbiamo imparare a conoscere siamo noi stessi il viaggio è un mezzo per capire se siamo pronte a incontrare lo straniero che è dentro di noi e per questo per viaggiare ci vuole coraggio la storia di questo volume risale a molti anni fa quando scrivevo come corrispondente dall'estero nella testata online della regione Veneto sono intervenuta su giornali nazionali e internazionali per valorizzare la comunità degli oriundi nel mondo degli italiani e il loro forte e doloroso e nostalgico legame con la madre patria questo lavoro è cresciuto con interventi alla RAI e alla rete televisiva nazionale brasiliana Globo sull'Economis per divulgare la storia la cultura e la lingua del viaggio nel tempo ho riunito in taccuini abbinati a un ampio archivio fotografico quello che oggi è diventato il volume che conoscerete i miei occhi hanno visto e questa pubblicazione ha viaggiato con me in maniera silenziosa inconsapevole nello spazio e nel tempo offrendomi l'occasione oggi di raccontare da vent'anni la storia iniziata proprio nel 1999 nei quali i miei occhi sono diventati più sensibili e curiosi rispetto al mondo e conosciamo come vediamo anche da questa cartina il mondo mediante le mappe isogeniche di proiezione cilindrica di marcatore che mostrano una visione eurocentrica svantaggiando le dimensioni reali dell'Africa dell'Asia e delle Americhe ma se lo guardiamo attraverso le mappe di Peters che rispettano le proporzioni tra le superfici dei continenti e mettono sullo stesso piano i paesi del primo e del terzo mondo risulta una visione mondocentrica che non va e non vede l'accondizionamento delle disequità economiche e politiche e quindi partiamo un po' a raccontare questo viaggio dall'Africa all'Africa che è la culla ma anche la discarica del mondo sfruttata da sempre questa è una mappa appunto che mostra le mappe di Peters raccontano le dimensioni dell'area reale dell'Africa dell'America e dell'Asia quindi una dimensione ben più ampia rispetto a quella che siamo abituati a vedere nei nostri insegnamenti didattici e comunque nel nostro quotidiano l'Africa che è sfruttata da sempre dove preleviamo ciò che ci serve e portiamo ciò che ci diventa inutile e uno dei paesi che ho conosciuto e che mi ha anche molto ferito è l'Angola che è la maggior produttrice di petrolio nel continente è molto ricca di carbone e ha il quarto posto al mondo per lo smercio dei diamanti tale risorse vengono gestite dalle multinazionali determinando così un enorme divario tra una smisurata classe povera che guadagna 2 dollari al giorno e un'elite milionaria che viaggi in elicottero va dal parrucchiera a New York e cina in ristoranti da 1000 dollari a sera qui ho vissuto una delle esperienze più contrastanti della mia vita ero interprete di portoghese e noi interpreti abbiamo la responsabilità di tradurre non solo le lingue ma anche le culture che talvolta sono intraducibili e di cui a volte mancano le parole da una parte ero tra europei affamati di conquista dall'altra vedevo gli africani affamati di riscatto ho visto aprire bauli di diamanti ho visto fuori serie collezionate parcheggiate attorno a una piscina solo per ostentazione perché mancavano le strade asfaltate in cui poterle guidare e purtroppo ho visto tante persone arrabbiate con quel mondo che non le ha mai teso una mano e corre disperate verso un futuro per riscattarsi e per riscattare quello che è sempre stato loro negato l'Angola è un paese minato e dimenticato sopraffatto dalla ferocia dal martirio e dalla corruzione della guerra civile che è durata ben 30 lunghissimi e sanguinosi anni che oggi sta tornando a vivere a sperare la capitale di Luanda è la città della follia una tra le più care e assieme le più povere al mondo vivono nelle munsecchi che sono agglomerati ottenuti con avanzi di lamiera arrugginite e plastiche dai tetti in lamine di amianto non esistono fognature l'acqua non è potabile l'elettricità va e viene e Obajo da Lisciera tradotto quartiere delle immondizie è il simbolo di un popolo bisognoso di aiuto e poi è che è questa l'immagine che rappresenta poi questo quartiere un altro viaggio interessante di cui parlo anche all'interno di questo volume è il Senegal in cui sono partita per un progetto umanitario e sono finita nell'isola di Ngor un villaggio di pescatori nei pressi di Dakar un'isola che di bianchi come me ne ha visti solo due o tre e un posto dove ho anche patito la fame di un occidentale perché celebravano il Ramadan e i supermercati non c'erano e quel poco che avevo se lo mangiavano squadre di formiche che arrivavano ovunque affamate come lo è l'Africa ho patito la sete perché l'acqua potabile era finita e ho avuto un'infezione alla gola che non avevano le medicine però ho deciso di rimanere per le persone e in particolare per due gemelline di qualche mese figlie di coloro che mi ospitavano perché volevo provare cosa significa privarsi di tutto capire se spogliandosi delle nostre certezze ci si conosce un po' di più e vivere con loro è stato straordinario una grande lezione di vita dove ho ritrovato il tempo e l'esistenza del tempo quello per pensare per guardare per sorridere per annoiarsi per scoprire quel tempo che non abbiamo più a ritorno sono stata informata che una delle gemelline era morta così il ricordo dei suoi occhi per me sarà sempre lo specchio reale di un'Africa profonda affamata e ingiusta e cito dal libro una qualche riga di questo articolo che parla appunto del Senegal e dice che le stradine di terra battute sono così lunghe e strette da obbligare ad andare in fila indiana zeppe di bambini queste creature non ti staccano gli occhi di dosso quegli occhi grandi e schietti che ti si ficcano in testa e non riesci più a toglierteli dalla mente mangiare con loro mi fa sentire diversa perché tavolo sedie piatti bicchieri posate non servono più e si mangia per terra torna un grande piatto condiviso da tutti con le mani senza convenevoli in modo rapido e un po' brusco qui vige la poligamia e si sceglie se essere monogami o poligami al lato del matrimonio possono concedersi fino a quattro mogli averle tutte sotto lo stesso tetto e ricevere una cospicua prole e molto forte è stata l'esperienza sempre vissuta in questo in questo frangente dell'isola di Goree dove appunto abbiamo una delle più grandi storie di tristezza legate alla schiavitù partita appunto dall'Africa per i Caraibi e per tutte le Americhe dove sono transitati milioni di africani deportati esisteva anche uno spazio per le persone che non essendo più utili venivano gettate in pasto agli squali in modo da dimostrare agli altri che non conveniva tentare la fuga colpisce la straziante porta senza ritorno che state vedendo una cornice che dà sul mare da dove gli schiavi venivano imbarcati nelle navi verso una vita senza libertà e poi andiamo in Asia in Asia invece i miei occhi si sono immersi di colori di profumi di energia un vigore potente incorporeo ascettico il famoso karma uno stato di serenità che avvolge alleggia nell'aria e contamina intimamente la devozione per il loro credo e che diventa totalizzante il senso della vita e della quotidianità è una sensazione strana quella di sentirsi protetti da un'area di conforto e di pace che nessun'altra parte del mondo ha provato ti pare quasi di vederla da quanto illumina gli occhi limpidi e il sorriso candido di queste persone se in Europa guardiamo al passato e nelle Americhe ci si concentra nel presente in Asia ciò che vale è il futuro così questo popolo ripone le sue energie nelle profezie e nella speranza totale per ciò che sta per avvenire se in Europa ci salutiamo dandoci la mano e in Latino America ci si stringe in un abbraccio in Asia si inchinano al Dio che riconoscono in ognuno di noi se i primi giorni in Asia possono disorientare perché tutto va al contrario rispetto alle nostre abitudini quando si rientra si sente un grande vuoto legato alla spiritualità che solo il tempo aiuta a far rientrare anche con lo spirito e questa è un'immagine interessante che vedete parla un po' anche delle lingue del mondo che è un punto di vista anche legato alla mia professione di linguista e vediamo che poi in realtà non abbiamo una lingua asiatica ma abbiamo per esempio la storia dell'India che racconta 26 lingue ufficiali 1300 dialetti dove purtroppo l'inglese non è neanche poi imparato da tutti proprio perché in India le scuole non sono neanche obbligatorie e abbiamo insomma un racconto anche di com'è diviso il mondo con se lo spartisce insomma la parte importante del cinese dell'inglese il portoghese l'italiano lo spagnolo l'arabo il russo insomma sono migliaia e migliaia di lingue parlate al mondo ma in realtà sembra che sia in mano poi a una piccola minoranza quindi andiamo in India e in India abbiamo una realtà molto bella dove loro appunto venerano il dio Shiva i credenti lo adorano così tanto da prendersi cura di lui in modo totale e nutrono le statue che lo rappresenta come se fossero in vita curano anche tanti altri dei in tutto 33 o 33 milioni perché Dio si può riprodurre infinite volte lui non ha forma non ha spazio è l'uno è il cosmo poveri e meno poveri tutti curano l'anima con dedizione e si depurano con le abluzioni sognano almeno una volta nella vita di fare il bagno nel gange il fiume sacro che nella loro lingua significa la madre che accoglie e purifica pur essendo estremamente inquinato ogni anno si lavano nelle sue acque milioni di credenti e si riversano le ceneri di migliaia di pire accese per le cremazioni donando uno spettacolo unico al mondo l'India però ha anche le sue contraddizioni le caste hanno una storia millenaria e la loro gerarchia è così potente da decidere il destino di un bambino fino alla sua nascita e infatti visto che l'istruzione non è indispensabile e tanti di loro non sono obbligati ad andare a scuola secondo le loro leggi molti non imparano l'inglese lingua per loro importantissima perché è l'unico veicolo che permette appunto loro di parlare tra nord sud centro eccetera quindi succede che spesso tra di loro non si capiscono in Thailandia invece sono buddisti al 95% e Buddha è il re di questa terra contemplato in 30.000 templi in sanscrito significa il risvegliato si rappresenta in 72 posizioni e ha tre segni particolari i grandi lobi delle orecchie per ascoltare la sommità della testa che simboleggia la saggezza tanto da essere vietato a toccare il capo di un buddista e l'urna tra le sopracciglia e quale punto in cui l'anima entra che è il terzo occhio Buddha non è considerato un dio ma la concretizzazione del miracolo ovvero il pervenire all'illuminazione l'ultimo ciclo prima di raggiungere il nirvana ognuno di noi è Buddha raggiungeremo l'ultima sequenza dell'ascensione e la pace in equilibrio con il mondo e queste sono alcune immagini anche di spiritualità e di contatto molto forte e molto vivo con le realtà asiatiche è poi nelle Americhe invece che io ho trovato la mia seconda casa e non ho cercato mai nelle Americhe del nord e del sud luoghi turistici ma la grande comunità che mi ha sempre accolta con empatia e fiducia sono una conoscitrice amante dell'America Latina dove si parlano le lingue neolatine dei colonizzatori principalmente spagnolo e portoghese che sono diventate anche la mia professione ho lavorato presso la camera di commercio dominico italiana che mi ha introdotto la realtà imprenditoriale del centro America ho vissuto la cultura della musica e del ballo che ho sempre studiato e che rende quest'isola un paradiso terrestre sono stata in Perù in Cile in Argentina in Brasile con progetti istituzionali regionali per conoscere e lavorare con le comunità italiane i missionari le scuole e le associazioni locali ho conosciuto la canzonatura dell'argentino la severità del popolo maia inca l'allegria del dominicano l'ostentazione del cubano la chiusura del cileno l'umiltà del paraguaiano e l'astuzia del popolo latino che insegna sempre a prendere il meglio della vita purtroppo ho anche visto una forte violenza sociale fatta di armi lotte civili e grande corruzione secondo cui i poveri non si riscattano e diventano bellicosi tanto da mettere in pericolo la vita di tutti ho insegnato italiano nella favela Mangheira di Rio de Janeiro e pochi erano gli allunni che venivano alle lezioni e lo facevano di nascosto dai genitori che gli avrebbero voluti a vendersi nelle strade poi il lungo viaggio in Brasile mi ha portata un po' più a sud facendomi scoprire la storia dell'emigrazione mi affascina molto la condizione dell'emigrante perché la sua personalità è sdoppiata contiene due culture due lingue due identità quella che lascia e quella che acquisisce sono almeno due le persone che vivono in lui e nel suo sguardo si scorgono almeno due sentimenti contrastanti quello della malinconia e quello della speranza essere italiani in Italia non è la stessa cosa che esserlo all'estero e l'attaccamento tenace per le radici e il terrore di perderle sono gli strumenti con cui guardare le comunità italiane nel mondo avere nostalgia per una terra che non si conosce è un sentimento profondo e difficile da gestire nel mondo abbiamo 100 milioni di discendenti italiani 70 milioni di questi sono discendenti diretti l'Argentina ha 20 milioni di italiani come gli Stati Uniti e l'Argentina ci racconta attraverso la lingua che raccoglie con le varianti linguistiche del coccolice e del lunfardo come la lingua spagnola si sia sposata con quella italiana ma quando siamo arrivati eravamo i lumbard gli italiani la brutta gente i mafiosi che portavano solo problemi in terra argentina e oggigiorno è diventata invece la lingua della comunità italiana in tali terre gli Stati Uniti che raccontano non solo con l'italiese ma con il broccolino una variante linguistica parlata a Brooklyn e il sickle English delle varianti inglesi unite con i dialetti le lingue locali dei siciliani l'Uruguay con una persona su tre di origine italiana il Venezuela la Colombia il Cile il Paraguay il Canada che nel Quebec osserva la variante linguistica dell'italianese quindi una sintassi italiana con all'interno parole in francese e in inglese quindi a volte le lingue ci raccontano che si può convivere in maniera pacifica ci si può anche sposare si può anche stare per tanti anni insieme e questo ho fatto con questa osservazione però la realtà particolare che ci racconta anche dei nostri espatriati il 45 di questi per cento andava nelle Americhe e di questi il 90 per cento andava a finire in Brasile soprattutto relativi alla prima grande emigrazione del 1875 il Brasile infatti rappresenta un enclave unica al mondo le comunità italiane sono assieme a quelle europee abbiamo una realtà bellissima degli ucraini dei tedeschi che arrivano 50 anni prima di noi e aprono la strada agli italiani i polacchi che non riescono a sopravvivere perché non sanno lavorare la terra e siamo noi a dare appoggio aiuto e riparo a questa gente e poi abbiamo i giapponesi che per essere giapponesi e con faccia da giapponesi non hanno avuto vita semplice non solo per essere in America ma perché erano in mezzo a comunità europee con facce non giapponesi e poi tante altre hanno costruito così un'altra Europa nella terra che il Papa chiama la fine del mondo dove gli indios da proprietari sono finiti nelle riserve e dove gli italiani sono rimasti isolati per decine di anni nelle foreste dove hanno affrontato malattie tropicali gli animali feroci hanno disboscato sequoie dal diametro di due metri aperto montagne trovato rifugio nelle radici profonde degli umbu sono sopravvissuti mangiando pinoli delle araucarie e riparati in baracche di legno che ancora oggi per alcuni sono la propria casa per essere accettati nelle Americhe bisognava essere sani e tuttora quando si gira in queste terre ti chiedono tutti sani e allora penso a questa espressione quanto abbia segnato in maniera indelebile i loro destini i pilastri per la sopravvivenza e l'antidoto al dolore per questa gente sono stati la fede il canto assieme alla lingua un Brasile che oggi è la più grande comunità italiana al mondo all'estero con 30 milioni di discendenti siamo a Roma ma la capitale italiana nel mondo per numero di abitanti è San Paolo 8 milioni di oriundi italiani l'isolamento geografico ha portato alla cristallizzazione della nostra lingua e la sedimentazione degli usi e dei costumi e da quasi 150 anni parlano l'italo-veneto-brasiliano l'unica coine delle parlate del nord Italia un gioiello linguistico unico al mondo parlato da quasi 2 milioni di persone rimanere in queste comunità per me è un viaggio nel tempo in cui il cuore di queste persone è fermo al momento della partenza dall'Italia e il ricordo è rimasto intatto e per loro ho ideato un progetto che si chiama appunto Cantando in Italiana per la valorizzazione della memoria storica e il patrimonio in materiale linguistico dell'immigrazione italiana nelle Americhe un progetto accademico con le università italiane ma anche brasiliane e argentine che mi ha riconosciuto molti premi 5 tournei in Brasile 5 volumi una mostra fotografica un documentario eccetera ma soprattutto un progetto sul campo in centinaia di comunità italiane dove ho vissuto con loro giorno dopo giorno casa dopo casa città dopo città ho percorso 500.000 km ho raccolto questionari interviste l'ascito musicale dei nostri migranti estrapolato un lavoro scientifico per creare un metodo didattico coinvolgendo 300 comunità 15.000 studenti centinaia di corsi conferenze per dare loro l'orgoglio che si deve avere per la propria lingua madre e quindi i miei occhi si riempiono di lacrime nel sentirmi ricompensata delle grandi fatiche e anche appagate in un giorno così rappresentativo come oggi in cui sento di concretizzare il viaggio di ritorno tanto sognato e desiderato dei padri fondatori di questi paesi e di queste città penso a Santa Felicità a Nova Venesa a Nova Padova a Nova Vicenza a Nova Belluno a Nova Milano a Nova Roma do Sul penso a Mendoza e a Rosario penso a Montevideo penso alla Serena in Cile lontani a più di 10.000 km ma oggi sono qui con noi vicini e presenti purtroppo presto la globalizzazione si inghiotterà tutto i sorrisi di quei bambini d'Africa la spiritualità e la contemplazione dell'Asia l'italianità dolce e malinconica delle Americhe si dimenticherà parole fisionomie e paesaggi si riprenderà le terre ricche di tradizioni e culture sposterà le genti e le nazionalità e saranno solo gli storici gli antropologi e i linguisti a trasmettere queste trasformazioni e l'immenso patrimonio della diversità gli occhi di chi ha visto racconteranno la bellezza e l'importanza di un mondo che ho scritto e che oggi già non c'è più grazie 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 a Giorgia per il suo appassionato intervento e descrizione del libro ma soprattutto della vita della sua vita io ho scritto lacrime sudore gioia bellezza questo credo che sia il sentimento delle parole di Giorgia che si è trasmesso qui oggi nonché ricordo di ognuno di noi che ha un parente un amico o qualsiasi altra altra persona che conosce emigrato in qualche paese lontano allora credo che questo sia una grande lezione per tutti noi oltre e credo che Giorgia ci ha fatto aprire gli occhi rispetto a tutto questo gli occhi della bellezza perché la bellezza di qualsiasi italiano di qualsiasi persona che ha la sua storia qui che è andata chiaramente oggi all'estero ci fa ricordare tante cose anche nel nostro vivere quotidiano quindi grazie grazie ancora se ci sono domande se non ci sono domande io direi di chiudere questa presentazione la signora prego le porto i saluti di Don Canuto Toso e del presidente Campagnolo io sono italo belga anche io sono interprete come lei volevo chiedere bellissimo il suo intervento interessantissimo il concetto dello straniero mi è piaciuto tantissimo l'Europa è stata tralasciata volutamente oppure nella prossima vita mi occuperò anche di Europa non perché allora è giusto ricordare che come sono partiti in cent'anni più di 10 milioni di italiani per l'America e altri 10 milioni sono partiti per l'Europa non perché un viaggio più breve volesse dire più semplice è solo che mi sono voluta complicare la vita andando dall'altra parte dell'oceano ma non perché non abbiamo a cuore e non ci sia ecco questo rispetto e questa sensibilità per queste comunità l'ultimo libro che scriverò perché poi chiuderò tutto andrò in vacanza anche io sarà proprio sulle comunità italiane nel mondo e includerò anche tanta Europa comunque mi permetto una battuta io ho sposato in italiano sono tornata in Italia mio fratello è rimasto in Belgio e mio fratello dice sempre mi pare che è stato condiviso i veri italiani oggi si trovano solo all'estero probabilmente all'estero ci si sente in Italia questa è una lezione di vita grazie c'era anche il signore prego passate di microfono io sono uno di quelli che sono partito a 15 anni sono partito a 15 anni in Australia ho lasciato la famiglia io vengo da Verona nato a Bolzano colisarco durante la guerra del 43 siamo stati trasferiti a Erbe isola della Scala e mio padre quando è venuto a casa ha unito siamo i nove fratelli ci ha unito tutta la famiglia unita e poi un mio fratello nel 49 è partito per l'Australia e io sono partito nel 50 tagliato la canna da Zucco a 15 anni senza famiglia senza nessuno grazie un applauso grazie a lei e voglio ricordare altre persone in sala come le due signore là in fondo mie care amiche e rappresentanti della NEA che sono nati in Australia e negli Stati Uniti quindi abbiamo un'altra parte del mondo rappresentata anche laggiù grazie giusto un cavaliere lei è dal Brasile abbiamo due signore brasiliane come posso dimenticare che vivono da noi e che sono con un cuore ben italiano il padre perfetto allora come vedete abbiamo raccolto il mondo qui in questa sala grazie grazie a tutti buona giornata gentilissimi se adesso chi ha lasciato qui il capote lo lasciamo grazie a tutti